Attraverso gli allenamenti, adesso piano piano conosco il gruppo, conosco lo staff tecnico, abbiamo un obiettivo di migliorare partita dopo partita, poi alla fine si tireranno le somme. Ho avuto un bel po' di trattative, grazie a Dio, sia dall'Italia, dalla Serie A che dall'estero. Qui mi ha convinto il direttore, mi ha convinto anche il mio procuratore, ma so bene che sto arrivando in una piazza molto importante e per me questo è uno stimolo importantissimo. Poi va bene, dipende tutto da come va a finire questa avventura, però io sono molto convinto di aver fatto la scelta giusta di venire a Bari. Cosa sapevo del Fabio Grosso, quello che sapevano tutti, ma da allenatore sapevo solo delle buone cose che mi dicevano i ragazzi che hanno lavorato con lui. Sono arrivato, ho visto uno staff molto preparato, ho visto uno staff che ogni giorno si applica al massimo per ogni allenamento, per ogni piccolo dettaglio. C'è una grande concentrazione e chiede tanta intensità da tutti i giocatori in ogni allenamento. Ho avuto un impatto molto positivo anche perché non me l'aspettavo mai di ricevere così tanti messaggi dai tifosi sui social. È una cosa che mi ha fatto impressione, mi ha fatto molto piacere e li ringrazio. Vedo una piazza molto calorosa, molto carica. Mi raccontano anche delle belle cose sullo stadio e con i tifosi. Aspetto solo di fare qualche vittoria in più e cercare di riempire lo stadio, nient'altro. Ho visto prima di tutto un gruppo fatto di bravissimi ragazzi, un gruppo fatto di brave persone, che poi negli amichevoli mi ha impressionato anche sulle qualità tecniche, che poi non sarò io a dire se sono forti o meno. Però ti dirò che ho trovato una bella squadra con tanti interpreti, ma tutti abbastanza bravi, molto bravi. Che tutti hanno una testa comune per cercare sempre di vincere, che è una cosa molto importante. La principale insidia è in Serie B, che è un campionato che ti puoi aspettare di tutto. Una squadra che forse è l'ultima in classifica può fare la sorpresa, invece quella che sta prima può trovarsi in un giorno un po' meno positivo e perdere qualsiasi partita. È un campionato molto strano, ma secondo me gli ingredienti sono essere cinici e poi avere tanta continuità nelle prestazioni soprattutto. Io sono a disposizione, sono in forma in questo momento anche perché non ho fatto vacanze, quindi non ho avuto lo stacco, diciamo, questi giorni festivi. Io sono a disposizione dell'allenatore, poi sarà lui e lo staff a decidere chi far giocare, certo. Qua ci aspettavamo più o meno tanta gente. La cosa che non ci aspettavamo è vedere così tanti tifosi là, a Bologna, che mi ricordo siamo usciti per il riscaldamento ed era tutta la curva San Luca piena di tifosi di Bari. Si sentiva un rumore prima dagli spogliatoi, però non capivamo, pensavamo fossero i nostri. Però usciamo fuori ed era un delirio pazzesco. Ha fatto un'impressione veramente, veramente bella.